Per tutta la vita sono stata un simbolo, ed i simboli sono eterni e immutabili, sono astratti. Un essere umano è cosa mortale e mutevole, con i suoi desideri e i suoi impulsi, speranze e dolori. Io sono stanca ad essere un simbolo eccellenza, voglio diventare un essere umano, è un impulso che non potrò mai reprimere. Tutta la vita sono stata un simbolo, un simbolo eterno, invariabile, un'astrazione. L'essere umano è mortale e invariabile, con desideri e impulsi, speranze e delusioni. Sono stanca di essere un simbolo cancelliere, desidero essere una persona. Non posso soffocare questo desiderio.